La giunta Roberti ormai al completo al lavoro su bilancio e sanità, restano però le polemiche sull'assenza di donne nell'esecutivo e sull'esclusione dell'Udc dallo stesso. La campagna sulla sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato fa tappa anche in Molise, un'iniziativa che ha coinvolto e sensibilizzato turisti e curiosi. Appuntamenti di intrattenimento e culturali a Trivento, oggi il Festival Itinerante Rocciamorgia, domani a Capracotta, focus su ricchezza e fragilità delle aree interne. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di ITLT. Apriamo con la politica, la giunta regionale di centrodestra ora al completo, concentrata sull'approvazione del bilancio e sulla sanità. Restano tuttavia mal di pancia, niente quaterosa e il partito dell'Udc escluso. Al governo della regione Molise manca solo il ruolo del sottosegretario, per il resto il presidente della giunta Francesco Roberti ha ultimato, seppur con settimane di ritardo, l'esecutivo nel Palazzo di Via Genova. Entrano assessori Salvatore Micone, Michele Iorio. Al primo vanno la transizione digitale, politiche agricole, pesca, programmazione, turismo, cultura e sport. Al secondo gli incarichi che riguardano le riforme istituzionali, PNRR e politiche di coesione, rapporti con i ministeri per l'attuazione del piano di rientro sanitario, Micone Iorio, entrambi di Fratelli d'Italia, vanno ad aggiungersi a Michele Marone della Lega, Gianluca Cefaratti, il Molise che vogliamo, e Andrea Di Lucente di Forza Italia, che rivestirà anche il ruolo di vicepresidente, un esecutivo di centrodestra composto da cinque assessori, più il presidente Roberti, di soli uomini, senza cuote rosa. È caduto infatti sul nascere la possibilità di inserire a Palazzo Vitale Stefania Passarelli, ex sindaca di Pozzilli. Per Michele Iorio invece un ritorno in giunta dopo più di un decennio alla guida dell'amministrazione regionale. Neanche il tempo di formalizzare le deleghe che scoppia la grana Udc, il partito dell'onorevole Lorenzo Cesa, è sgomento per come Francesco Roberti ha definito il nuovo governo del Molise. I centristi sono fuori dalla giunta, si sentono traditi, ma rivendicano il rispetto della coalizione. L'Udc chiede espressamente la convocazione di un vertice politico di maggioranza, un tavolo regionale mai convocato dopo la vittoria elettorale del 25 e 26 giugno. Nessuna donna in giunta, illegittimo, inaccettabile e gravissimo. Che ne pensa la Meloni? Noi torneremo a fare ricorso. Queste le parole della consigliera regionale del PD, Micaela Fanelli, dopo la composizione dell'esecutivo Roberti. Un esecutivo ha rimarcato l'esponente di centro-sinistra ancora una volta legittimo, perché in contrasto con gli articoli 122, 3, 51, 117 della Costituzione, con la legge 165 del 2004 e soprattutto con l'articolo 6 dello Statuto della Regione Molise e con la legge elettorale regionale che punta a favorire l'equilibrio di genere. E i parlamentari molisani Costanzo della Porta e Elisabetta Lancellotta, insieme al Presidente della Regione Francesco Roberti, hanno incontrato a Roma il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, l'ente di ingrandimento sulle linee programmatiche della sanità molisana. Il Ministro Schillaci ha prospettato il possibile superamento del decreto Balduzzi entro la fine del prossimo mese di ottobre. Si porteranno così sostanziali migliorie in ambito sanitario, con conseguenti benefici in favore dei cittadini. Come è sottolineato da Delaporte e Lancellotta, infatti si potranno attribuire maggiori risorse al comparto in Molise, un punto di partenza per l'uscita dal commissariamento. Reddito di cittadinanza, formazione Social Card 2023, rapporto e preoccupazioni della CGL. Con l'abolizione del reddito di cittadinanza da parte del Governo Meloni si tirano le prime somme. In Molise nel 2023 i percettori sono stati quasi 13.000, di questi 3.950 sono rimasti senza il sostegno dal 31 luglio, mentre i cittadini che beneficeranno della Social Card da usare per l'acquisto di generi alimentari sono 9.209, tutti i numeri analizzati dalla CGL Abruzzo-Molise nel rapporto regionale reddito di cittadinanza, formazione Social Card 2023. Nello specifico continueranno a ricevere il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 solo quei nuclei al cui interno c'è un minore, un disabile o un ultra 65enne. A partire dal 1 gennaio 2024 queste famiglie potranno chiedere l'assegno di inclusione. Per chi ha cessato il sostegno da settembre potrà eventualmente accedere al supporto per la formazione e il lavoro, una nuova misura dal valore di 350 euro mensili che saranno erogati solo nei mesi in cui saranno attivi per corsi formativi. Non per tutti però sarà possibile accedervi e comunque ad oggi i corsi disponibili avrebbero una durata sicuramente inferiore ai 12 mesi, un aspetto quest'ultimo per cui la CGL esprime preoccupazione. Ed ancora potranno continuare a percepire il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali. In questo caso spetterà ai comuni fare le opportune comunicazioni entro il 31 ottobre prossimo tramite la piattaforma GEPI del Ministero del Lavoro. Non è ancora chiaro però se la misura si possa estendere anche a coloro che nel frattempo verranno presi in carico dagli stessi servizi sociali. Circa la Social Card 2023 sono 9.209 molisani che potranno andare in ufficio postale per ritirare la carta prepagata dedicata a te del valore di 382,50 euro da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari. Ne avranno diritto i nuclei familiari di almeno tre componenti e isa inferiore a 15.000 euro a condizione che rientrino tra i beneficiari nella graduatoria comunale. Sono esclusi coloro che nel mese di luglio percepivano reddito, pensione di cittadinanza, naspi, cassa integrazione o altri sostegni così come sono esclusi tutti i nuclei familiari di uno o due componenti a prescindere dal reddito. Insomma un impianto che non lascia tranquilla la CGL. E per quanto riguarda la formazione per la CGL sarebbe interessante sapere qual è lo stato dell'arte della Regione Molise rispetto ai corsi attivati e da attivare e quali sono le possibilità che si riusciranno ad offrire a chi adesso è rimasto senza alcun sostegno. In questo senso è necessario, oltre ad una proroga del reddito di cittadinanza come chiesto anche dalla CGL nazionale, uno sforzo che coinvolga comuni e regione affinché insieme si lavori perché non rimanga indietro nessuno. Voltiamo pagina all'8.0 a Disernia, Prefettura e ANAS pronti a firmare un protocollo di legalità. L'invito ad attendere il pronunciamento del TAR in merito al progetto. Lavori per la realizzazione dell'8.0 a Disernia. Domani, giovedì 3 agosto, Prefettura Pentra ed ANAS firmeranno un protocollo per la legalità. Un atto attraverso il quale gli stessi enti andranno ad attestare come il complesso e articolato iter procedurale necessario alla realizzazione di un'opera di tale portata sia stato seguito rispettando tutti i criteri richiesti in ogni passaggio nel pieno rispetto delle regole. Tuttavia, il TAR Molise ancora non si è pronunciato nel merito del ricorso presentato dal Comune di Disernia riguardante la scaduta valutazione di impatto ambientale. È passato oltre un anno e mezzo ed è atteso il giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale. Eppure, Prefettura ed ANAS procederanno con la firma perché questa fretta si chiede il Comitato Nolotto Zero. Inoltre, vi sono alcune palesi mancanze documentali contenute nell'iter procedurale in particolare assenti la cosiddetta opzione zero cioè la valutazione costi-benefici anche nell'ipotesi di non realizzazione dell'opera e la mancata approvazione nei consigli comunali delle tre amministrazioni interessate delle varianti ai piani regolatori sui progetti definitivi. Il Comitato Nolotto Zero ricorda poi che esistono altre indagini aperte che ancora non hanno avuto la loro definizione. Per lo stesso, il progetto resta inutile, costoso e pericoloso, oltre che illegale, per cui bisognerebbe attendere che la magistratura coinvolta si pronunci. L'invito al Prefetto affinché non proceda con nessun avvallo, una strada che potrebbe essere sbarrata in un prossimo futuro, è al Sindaco di Sernia perché esponga le ragioni del no al progetto che prevede consumo di suolo prezioso, taglio di alberi, colate di cemento e d'asfalto e sperpero ingente di denaro. Forte cordoio nel piccolo centro pugliese di Serra Capriola per la famiglia di Massimo Trivelli, il 51enne operaio, rimasto vittima di un incidente mortale a Montagano due giorni fa colpito da una pala meccanica all'interno dell'impianto di conferimento rifiuti. Su disposizione della magistratura di Campobasso, la salma dell'uomo è stata restituita ai familiari per i funerali. La Guardia di Finanza di Pescara ha concluso le indagini sull'operato di una cooperativa dedita al trasporto in ambulanza sotto sequestro mezzi e beni immobili della società. La Guardia di Finanza di Pescara ha concluso le indagini su una cooperativa che si occupa di trasporto in ambulanza sul territorio nazionale. Lo sfruttamento dei lavoratori, il non rispetto delle condizioni di contratto stipulato con la stazione appaltante e la mancata sanificazione dei mezzi utilizzati permettevano alla ditta di offrire i servizi a prezzi ribassati e di vincere le gare d'appalto. I soccorsi erano inoltre garantiti da un numero di ambulanze inferiore a quanto previsto dai contratti. Uno degli indagati era già stato precedentemente condannato nel 2017 per turbamento d'asta, quindi per partecipare ai bandi la società ricorreva ad un prestanome. A conclusione dell'attività d'indagine il Tribunale di Pescara ha sequestrato beni per un totale di 10 milioni di euro e ha congelato un capitale di 200 mila euro. La cooperativa ora sarà gestita da un amministratore giudiziario appositamente nominato per cui i dipendenti non saranno licenziati ma continueranno a svolgere regolarmente le operazioni di soccorso. La Procura della Repubblica di Larino ha fissato a domani pomeriggio l'autopsia sul corpo di Michele Basanini il 51enne appassionato di pesca subacque ha negato nelle acque antistanti la spiaggia di Campomarino Lido domenica 30 luglio. Sulla vicenda ci sono le indagini in corso da parte della Capitaneria di Porto di Termoli. L'autopsia sarà eseguita nell'obitorio dell'ospedale Santimotio. Estate con noi è la campagna di educazione stradale promossa dalla Polizia di Stato. La manifestazione fa tappa anche in Molise nel piazzale del Castello Svevo di Termoli radunando turisti e curiosi. La Polizia stradale sta promuovendo in tutta Italia la campagna sulla sicurezza alla guida. In questi giorni l'iniziativa itinerante Estate con noi sta facendo tappa sul litorale adriatico. Giulianova e Pescara ma anche Termoli dove domenica scorsa gli agenti hanno mostrato al pubblico il pullman azzurro e la Lamborghini utilizzata per il trasporto di organi e sangue. Quest'auto infatti permette di guidare in sicurezza anche ad alta velocità. La manifestazione di educazione stradale Estate con noi ha lo scopo di affrontare un tema estremamente importante utilizzando un linguaggio semplice e avvicinandosi a persone di tutte le fasce d'età. Infatti la campagna di imprevenzione proseguirà anche nelle scuole con il progetto Icaro portato avanti da vent'anni dalla Polizia di Stato in partenariato con il Ministero dell'Istruzione. Si è costituito ufficialmente il comitato territoriale CRI di Termoli già sede territoriale afferente al comitato di Campobasso. I comitati di Croce Rossa presenti nella regione Molise diventano quindi tre Campobasso, Esernia e Termoli. Una data storica che afferma Antonio Vitarelli presidente CRI Molise ci permette di ampliare la nostra presenza aggiungendo dopo 25 anni un nuovo comitato sulla costa adriatica. I volontari sono pronti per iniziare questa nuova esperienza e tutti noi saremo ancora più presenti al fianco della popolazione termolese e dei territori limitrofi. Sulla scalinata del folklore di Termoli riprende dopo due anni di interruzione la foto d'insieme. Ieri sera la tredicesima edizione. Sono tredici anni che si celebra questo rito del primo agosto con i termolesi che si fanno fotografare per ribadire la loro termolesità sulla scalinata del folklore. e a organizzare il tutto è la signora Tina Menadeo che tredici anni fa decise di fare questa cosa, questo evento e sinceramente i primi anni è stato davvero un successo senza precedenti di partecipazione. Poi mano a mano negli anni vuoi anche perché poi c'è stato il Covid la pandemia che ha bloccato l'evento e riprenderla dopo due anni di stop è stata anche un po' dura ma come si dice chi la dura la vince e Tina Menadeo non è certo una che molla facilmente la presa come le volte scorse chi era assente alla foto ha avuto sempre torto chi è termolesi come si dice d'induco ora è venuto. Abbiamo visto termolesi arrivare da Genova Milano, Torino eccetera eccetera e allora ribadiamo ancora una volta di più a gran voce noi siamo i termolesi ci rivedremo sempre anche comunque il primo agosto 2024. San Basso santo patrono di Termoli protagonista della nuova poesia scritta dal professor Nicola Palladino in occasione della festività più sentita nella cittadina adriatica. Lui il professore di musica Nicola Palladino in pensione è uno di quei pochi che ha ancora realmente termolo d'induco ora ed appena si presenta l'occasione non perde tempo e lo ribadisce a gran voce. Oggi in occasione della festa patronale di San Basso non poteva far mancare ai telespettatori di TLT la poesia sul santo patrono termolese San Basso appena scritta e siamo i primi ad ascoltarla questa chicca Nduco orde San Basso è il titolo Buon San Basso a tutti i nostri telespettatori io ci sono attaccato forse non è il più importante ma da quando sono nato voglio bene questo santo che amico di chi crede pure di chi indefete da dentro la cattedrale guarda, vede e prevede stessi dall'urno per che dormi a sonne pieni ma leggendo di pensare dalla gente uno a uno se qualcuno invoca metta una parola e il padre eterno uscita quando fa la sanzala sitte tranquilli quieti per fatta di prete ma quando serve aiuto ma che ci si tratta addirittura quando staggiu la cuglia stima fanno bene che non zenta e gli armi tasti in maranare tutte la gente vecchia e nuova lo rispettano e sanno che sanno tutta prova e ora che pur quando ha questa sua arrivata io voglio dedicar stilerso appassionato visca va bella mi s'ambassa la durata addrizzale tu la goccia tutti svertavata parla tu con signore disse che stai lassù se canduco ora tu ci stima sempre no gli appuntamenti legati alla settima edizione del festival itinerante rocciamorgia oggi a Trivento dalla mattinata lungo la scalinata San Nicola la promozione no gastronomica con produttori e aziende agricole nel pomeriggio dialoghi letterari con le scrittrici Antonella Presutti e Adele Fraracci infine in serata il concerto di Renora Bordonaro e Puccio Castro Giovanni si parlerà del ruolo delle aree interne delle province delle loro ricchezze e delle loro fragilità domani giovedì alle 18 in piazza Falconi a Capracotta sarà Federico Quaranta autore e conduttore televisivo l'ospite di eccezione invitato dall'associazione Tecne per il calendario di montagna Molisse ed ora spazio alle previsioni del tempo Metalimpianti Carpenterie metalliche civili e industriali scale acciaio corten serramenti in alluminio PVC e legno alluminio Metalimpianti Boiano Info 0874 77 34 54 la gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e inviale Olanda nella zona industriale di San Salmo Cielo soleggiato oggi su Molise e Abruzzo dalla sera senza di nubi le temperature odierne sono comprese fra la minima di 18 gradi e una massima di 31 a disernia per il Molise in Abruzzo si registra una minima di 16 gradi all'Aquila e una massima di 34 gradi a Pescara nella giornata di domani ancora prevalenza di sole e clima caldo calmo il medio adriatico venti dei quadranti sud orientali tra raduni di calciatori e acquisti di mercato il vasto Girardi si prepara per una nuova stagione nell'Inter regionale come sempre è la salvezza l'obiettivo prioritario della società giallo-blu a che punto è il vasto Girardi il vasto Girardi è all'80% della costruzione della squadra col direttore ci siamo confrontati più volte in questi giorni ieri la prima uscita con la Juve Stabbia al di là del risultato abbiamo visto buone cose pur sempre pensando che eravamo da 4 giorni in ritiro quindi i primi carichi di lavoro però qualcosa di buono abbiamo visto c'è qualche giovane interessante c'è qualche nostra vecchia conoscenza che è ritornato il direttore negli ultimi nei prossimi giorni metterà all'interno del gruppo due o tre tasselli di spessore che faranno ancora crescere il livello della nostra squadra mantenendo sempre lo stesso budget cercheremo di raggiungere sempre il nostro obiettivo che è quello di mantenere la categoria allo stadio comunale di Fornelli domani giovedì alle 18 si svolgerà il secondo raduno calcistico organizzato dalla società Vasto Girardi per la categoria Juniors in collaborazione con l'Olympic Isernia San Dacapito appuntamento sul rettangolo verde per i calciatori nati negli anni dal 2005 al 2007 coloro che intendono partecipare dovranno essere muniti di certificato medico e del nulla osta della società da cui si proviene pallavolo maschile di Serie B l'Energy Time Campobasso conferma il 27enne centrale Michele Sulmona la terza stagione consecutiva con il club del capoluogo di regione il tecnico siciliano Mariano Maniscalco ritrova così una pedina fondamentale nel sestetto rosso-blu a Disernia è giunto il tempo di organizzare un torneo di tennis per i semiprofessionisti dopo circa 30 anni dall'ultima edizione l'Open si giocherà dal 21 agosto al 3 settembre al circolo tennis del capoluogo di provincia 3.000 euro il Montepremi e con questo è tutto vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento alle prossime edizioni della nostra informazione arrivederci a presto a presto a presto Grazie a tutti